allora giovani mentre sentite mia moglie mettere pepe al pollo sta facendo il pollo arrosto io vi faccio vedere questa bellezza qua la meraviglia ora di gustare oggi siamo con gamberi con crema bianca gratin da panico cioè penne io la traduco da modo mio penne questo il concetto potete vedere con gamberi formaggio a microonde vanno tre minuti microonde a 500 watt e 429 kcal il prezzo è 400 yen questo è un pasto completo del 7-eleven e adesso andiamo andiamo a mettere al microonde andiamo a mangiare e vediamo di che sapore ha ogni volta la pasta del combini non vedete mai nel frattempo mia moglie si sta scatenando poi condimentica manco allora ci siamo ci siamo tre minuti ed eccola qua sentite il rumore il rumore di questa è la versione allora le convenzioni sono fatte apposta per poter resistere al microonde sono fatte apposta per poterle ogni volta ve lo dirò cioè questi sono pensate ragà per salami e salami man per chi lavora perché non ha tempo di preparare qualcosa e approfitta di questa non è cattiva qualità molto convinti che il 7-eleven tipo 7-eleven sia la stessa cosa di quello che trovate in altri paesi del mondo no non è la stessa cosa il nome è la stessa ma la comunità è molto diversa ok vedendo in australia ho visti se venire in australia sinceramente mamma mia ma andiamo all'assaggio volete favori basta una porchetta chissà cosa loro mi piace questa cosa del formaggio sopra gratin comunque ci sta ragazzi è buona non è un tipo di pasta come la nostra però prende prende l'idea ero molto scettico anche quando l'ho assaggiato spaghetti e roba del genere ma sai che cavolo di di pappone che esce dopo sai come sarà tutta una colla la pasta invece no questa qua non è al dende perché la gente al forno per quello è il concetto è tipo pasta forno gratinata sopra ma gli spaghetti sono dende non so come cavolo fanno ma si riesce a mantenere quella quella particolarità stavo sostiona proprio avete fretta siete in hotel volete mangiare qualcosa a volo va bene questa qua per emergenza però ripeto sempre 400 500 yen 500 yen si può trovare anche altro in giappone questo è proprio tipo quella roba di che ti viene fame nella sera quando non c'è niente aperto dipende dove sei quello che devi fare in emergenza questo rende l'idea perfetto non fate diventare questa cosa abitudine perché fa male mangiare troppa roba che combini fa male fa diventare abitudine fa male la vedo io perché alla fine ci sono sempre conservanti non ce ne sono conservanti questa roba non è destinata per stare mesi e mesi di scaffali questa è destinata per stan giorno due ma due non ci arriva nemmeno questa due non ci arriva manco anche perché le quantità di quello che si vengono prodotti in fabbrica pure sono gestite in modo che ci sia un consumo immediato non si fa roba perché un dolce rimane in vetrina per due settimane o la stessa cosa si fa una bendo perché non si fa vedere esiste tre giorni in frigo non esiste il formaggio e la crema sono buone non è quel formaggio quello senti che sembra che ti stai a mangiare il direvo dire una plastica ti stai a mangiare il copertone questo rende l'idea solo ora di pranzo questo faccio e poi ci maniamo con mia moglie un pollo al forno e io sono stupido raga non è che io vivo di sta roba lasagna e cannelloni facciamo uscire ogni tanto faccio qualcosa cucino io uno spaghetto aglio ma lo scoglio una cosa è che mi mi sono totalmente giapponizzato e mangio solo roba giapponese so che sta roba vingurosisce quando mi capita a tiro tipo io in fabbrica posso prendere roba a un prezzo inferiore quindi perchè tu paghi siamo 400 dipendenti e non è che l'azienda può regalare roba a tutti quanti abbiamo un prezzo nettamente molto inferiore quindi quando capita a me non crea problemi se devo andare io a combini a comprarmi sta roba non succede che mai nella vita io spendo dei soldi per sta roba 400 yen riesco a ci fascinare uno spaghetto fatto come dio comanda ma non non dico niente di cattivo può andare non è niente a che vede o quello che facciamo in italia ma come concetto di pasta ci sta io nel frattempo che finisco di mangiare raga vi ringrazio per la vostra gentilezza nel commentare nel condividere nel mettere il mi piace nel interagire con i video e un gran benvenuto a tutti i nuovi iscritti ragazzi stamattina la famiglia rossa puntiamo a sti undicimila puntiamo poi vendimila ma dipende anche dal vostro aiuto se il canale cresce cresce o no perché da solo posso fare quello che posso ma ho anche i miei limiti dettagli anche dal tempo che non posso sempre dedicare sempre tutto perché lavoro una vita distaccata youtube e non vivo di youtube io vivo di altro e mi sembra tanto tempo lo sa ragazzi vi lascio un bacio un abbraccio video cortino a sto giro al prossimo oro da gustare al giappone vado e bravo